Buon compleanno FIOM, si festeggiano anche qui a Lanciano con una manifestazione provinciale, i 110 anni della FIOM. Davide Labrozzi, segretario provinciale FIOM Chieti. Festeggiamo i 110 anni della FIOM anche qui a Chieti e lo facciamo per sostanzialmente non solo trovare l'occasione per passare un momento così bello, importante, e quello di un compleanno, ma lo facciamo anche per rafforzare l'incontro tra generazioni, quindi tra chi sostanzialmente si appresta a chiudere la sua esperienza lavorativa e chi invece oggi avvia una nuova esperienza, una nuova fase, quella del lavoro e dell'esperienza sindacale. Non a caso abbiamo predisposto una premiazione, abbiamo predisposto un incontro particolare tra le generazioni. E quello facciamo perché oggi sentiamo in maniera particolare l'esigenza di ricordare a chi probabilmente ha dimenticato che la FIOM è la storia di questo Paese, è la storia del mondo del lavoro, che la FIOM ha scritto le pagine più importanti del movimento sindacale in Italia e che nessuno oggi può pensare di mettere da parte la FIOM e nessuno può pensare di imporre una logica di scambio tra il lavoro e i diritti. La FIOM ha premiato i lavoratori che sono andati in pensione da poco e che hanno avuto grandi attività nel sindacato, nella capacità di coinvolgere i lavoratori, nelle battaglie fatte oggi, mentre facciamo questo dobbiamo anche pensare a tutti quei giovani che devono entrare nel mondo del lavoro, che devono trovare un lavoro dignitoso, un reddito, un salario per poter fare una famiglia e questa è la nuova sfida che abbiamo avanti, abbattendo ogni idea di precarietà e dando garanzie ai lavoratori, ai giovani, ai pensionati, alle persone che devono vivere dignitosamente in questo Paese.